Oggi vi carico, faccio questo video molto breve, da tanto che non ci sentiamo, quasi una settimana più o meno e volevo caricare questo mini video, diciamo non è un video gameplay, non è niente, è solo un video così visto che per spiegarvi un po' cosa è successo in questi giorni che non ho più caricato video Allora, lunedì avevo la terza prova quindi è stato un casino, dovevo studiare tantissimo e mi ha impegnato tantissimo tempo quindi non sono potuto andare a registrare nessun video da Lord Sirius anche perché io ho questo problema del cavolo che la mia televisione non è data con HDMI e quindi non riesco a registrare un cazzo, quindi devo andare per forza a casa sua a registrare quindi essendo che dovevo studiare non potevo uscire Inoltre, il computer non so cosa mi stia prendendo ma non mi va più e non mi va più nel senso che non mi apre più nessun gioco, non so come mai e cercherò di capire il primo possibile perché se no è un casino cioè funzionano tutti i programmi tranne i giochi, ad esempio Cantasia funziona cazzo ne so, internet va, tutti i programmi per fare, che ne so, tipo Skype tipo programmi per l'edit, si buono te l'ho già detto programmi per, che ne so, per scrivere come OpenOffice Microsoft funzionano tutti e l'unico problema è che non mi funzionano i giochi lì dice che non vanno perché mancano dei driver della scheda madre però essendo che io non ho mai toccato niente di questi cazzi di driver infatti io avevo scaricato anche, allora a questo punto ho detto boh, scarico un programma per vedere un po' come posso fare con questi driver l'ho scaricato e all'inizio aveva funzionato poi questo problema è risorto risorto, sì perché lui rinasce sì è risorto, buonanotte è tornato solo che però riaprendo il programma che mi faceva vedere quali driver mancavano mi dicevo che c'erano tutti dopo un po' è tornato da solo normale adesso non torna più normale come era prima quindi devo capire un po' come fare perché non posso più giocare a niente proprio avevo, cioè avevo dei giochi anche che giocavo da solo tipo League of Legends però adesso non mi va più e proprio perché non mi si apre, non me lo fa aprire appunto perché mi dice che manca la scheda driver quindi non riesco a leggerlo e il programma mi dice sempre che c'è quindi niente allora questo video l'ho fatto solo per farvi capire che non sono morto che il canale non verrà chiuso e cose così sabato pomeriggio se riesco con molte probabilità vado da Lord Sirius a fare un paio di video l'idea sarebbe due di Battlefield 4 e 2 di WWE ora stavo pensando se fare anche altri video che ne sono su Assassin's Creed 4 o su GTA o che ne sono anche su FIFA 13 e un'altra cosa volevo comprare un nuovo gioco quindi se volete consigliarmi un nuovo gioco che io volevo comprare un nuovo gioco perché volevo provare nuove modalità così di gioco e cacate varie lo comprerò più o meno fine febbraio diciamo a meno che voi non volete che lo compro prima e faccio dei video che ne so tipo Beyond 2 Anime oppure che ne so FIFA 14 o altri giochi tipo non lo so boh non so adesso devo vedere un po' che giochi sono usciti tipo un po' di giochi fichi sono usciti quindi vedo faccio una selezione e scelgo quale quindi se volete magari che ne so qualche nuovo video su qualche nuovo gioco che posso comprare e io vi risponderò in qualche modo perché mi funziona tanto il computer quindi per ora va tutto bene in quell'ambito rispetto all'editing e al caricare i video l'unica cosa che non va sono i giochi quindi adesso caricherò oggi oggi è giovedì sì, oggi è giovedì e vi carico questo video sabato faccio gli altri 4 video così meno per la settimana non dico che ricarico tutti di seguito uno all'altro in modo tale che almeno sabato prossimo posso andare di nuovo a casa sua a fare altri video se posso se ce la faccio con i tempi con lo studio quindi commentate se volete che ne so se vi piace l'idea di che allora voi dovete scegliere in questo video cosa dovete fare vabbò lasciate mi piace scrivervi e commentare cosa dovete commentare dovete commentare se volete dei video su dei nuovi giochi che ho e sono Assassin's Creed 4 GTA 5 o che ne so FIFA 13 o c'è anche Uncharted 3 sì c'è anche Prototype però comunque oppure se volete altri giochi visto che io ne volevo comprare uno mi scrivete qua sotto in descrizione quale 1, 2, 3 quante cazzo ne volete io guardo un po' scelgo e vi faccio sapere per il resto niente io adesso torno a studiare perché sono veramente pieno adesso sto facendo inglese devo fare diciamo un mini che si dice un mini approfondimento sull'Holocausto l'Holocausto in inglese per l'interrogazione niente quindi ci vediamo al prossimo video sabato spero di caricarvelo già sabato e sarà un video di Battlefield 4 sarà il Rotto Commander 10 vedrò di fare qualcosina di di diverso rispetto al solito e niente mi scuso ancora per il disagio ma visto che sono in quinta avrò occasione di studiare ci saranno molti diciamo tempi morti come questo qua spero che comunque riesco ad arrangiarmi nel cerco i tempi segnando varie cose diciamo mi creerò una piccola agenda di quello che devo fare e quello che non devo fare niente allora io vi saluto ricordate di commentare mettete un mi piace a questo video iscrivetevi al canale per altri video noi ci vediamo sabato con un prossimo video bye bye ciao a tutti ciao a tutti